I miei due accompagnatrici non è che non gli è costato nulla, se non altro a loro ho offerto poi a chi ha aperto la sede, gli altri perché sono stati puntuali, eccolo là, le ragioni ci sono tutte allora, almeno permettiamo chi è arrivato di sedersi, ci sono tutti, abbiamo almeno tre gruppi, ne manca uno tanto il lavoro lo possiamo far partire, giusto per Menoria, noi ieri siamo arrivati a questo punto vi ho detto diverse cose a voce che poi dopo nelle slide trovate anche un minimo fissate per ognuno di questi ambiti che abbiamo trattato ricordiamoci questa cosa qui, che questo procedimento serve a elaborare due cose da una parte avere un'idea un pochino più definita di quale strategia ci conviene adottare perché appunto determinati punti di forza ci possono aiutare a far capire a che tipo di interlocutori ci possiamo rivolgere, innanzitutto come grandi categorie, aziende, fondazioni e appunto individui che è la parte più complessa perché è chiaro siamo 55 milioni di italiani e quindi evidentemente abbiamo interlocutori molto diversificati la seconda cosa che ci aiuta a capire questo tipo di analisi che adesso faremo molto brevemente è quali modalità di raccolta fondi tra le tante possibili possono essere più consone per la nostra attività giusto per completare il quadro noi vi ricordate dal ciclo oltre un'analisi dell'organizzazione forze e debolezze dobbiamo anche fare un'analisi dell'ambiente esterno noi lo faremo in maniera laboratoriale guardando alle aziende quindi lo faremo dopo però per darvi una visione globale di quello che è il lavoro di analisi che è necessario per fare il fundraising buttiamo un rapido sguardo a quella che è l'analisi dell'ambiente esterno cioè di quell'ambiente dove noi dobbiamo trovare i soldi dove noi dobbiamo analizzare soprattutto quattro cose i pubblici cioè gli interlocutori che potenzialmente possono essere interessati alla nostra causa e quindi a darci i soldi la competizione perché solo noi qua dentro cercheremo soldi anche e soprattutto in provincia di Lecce siamo tutti in competizione al di là della nostra voglia di competere o meno il macroambiente ma ieri abbiamo detto molto di questo cioè quei trend di cambiamento sociale politico, tecnologico, culturale e quant'altro che ci sono nel mondo nel quale noi agiamo e quindi su questo non aggiungiamo un granché e i mercati che in qualche modo sono un sistema di regole ricordiamo scritte e soprattutto non scritte di regole tra chi ha una domanda di qualche cosa e chi ha un'offerta di qualche cosa quindi qui usiamo il concetto di mercato non nel senso del business in verità quasi nessuno di noi fa proprio un business e non è la finalità principale in ogni caso parliamo proprio in senso tecnico di mercati cioè quella dinamica di regole che si instaura tra una domanda e un'offerta e quindi è chiaro che noi se vogliamo andare sul cosiddetto mercato delle aziende dobbiamo capire se ci sono delle regole quali regole, quali tendenze la cosa più importante di tutti è ah scusatemi questo è il mio telefonino che era rimasto acceso allora la cosa più importante di queste quattro è sicuramente i pubblici perché per noi poi al lato pratico è funzionale a stabilire quali sono i target da colpire con la raccolta fondi nel caso delle aziende in maniera ancora più specifica cercare di capire qual è l'azienda alla quale conviene rivolgersi o che tipologie di aziende alle quali rivolgersi noi qui usiamo ormai noi il mondo usa molto questo concetto di stakeholder che letteralmente vuol dire portatore di interessi per il fundraising è forse il concetto migliore nel senso che noi andiamo a cercare qualche d'uno che possa o di fatto già condividere interessi con noi oppure noi sospettiamo che possa condividere interessi con noi la nozione di interessi è assolutamente generale molto ampia io escludo solamente gli interessi illegittimi ma perché non si possono trattare eppure tanta gente scambia perché ci sono interessi illegittimi ma questo tecnicamente è interessante invece politicamente no quindi parlo di interessi nel senso interesse alla causa interesse al territorio nel quale opero interesse a noi come gruppo di persone cioè gli interessi possono essere i più ampi grazie al cielo laddove noi ne individuiamo uno e lo sappiamo in qualche modo misurare controllare valutare quanto sia forte o meno beh questo è già un buono spunto per il fundraising qualcuno dice giustamente che il fundraising è un matrimonio di interesse nel senso che se dietro non c'è un interesse questi soldi non passano è evidentemente chiaro negli scambi di tipo commerciale da noi è un pochino più filosofico ma di fatto è così io darò soldi al museo del gusto perché è un interesse al cibo perché è un interesse al territorio perché e perché 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 questo perché ci aiuta a individuare degli interlocutori quindi per noi gli stakeholder sono qualsiasi persona gruppo organizzato o istituzione che ha interessi rispetto a un progetto un'organizzazione e che può essere influenzata da essi o può influenzare lo sviluppo influenzarne lo sviluppo e la realizzazione perché questo concetto è importante perché nella stakeholder analysis cioè nell'analisi degli stakeholder un'organizzazione che deve raggiungere un obiettivo chiaramente deve farsi una mappatura di quei soggetti che possono o contribuire perché condividono un interesse o al limite anche ostacolare il raggiungimento del nostro obiettivo perché perché scendono in campo con un loro interesse facciamo il caso tipico io sono un'azienda che è un'azienda chimica un mio stakeholder non può che essere un gruppo ambientalista fa nulla che il suo interesse è contrario ma io comunque i conti con lui li devo fare questo può portare poi a diversi modi di gestire il rapporto con gli stakeholder o conflittuale o di alleanza o di mediazione o quant'altro questo poi voglio dire sta ai valori alla politica di ogni organizzazione non è che lo possiamo dire noi l'importante è che noi capiamo quali sono i nostri stakeholder sia in senso positivo sia in senso potenzialmente negativo e possono fare riferimento a qualunque tipo di ambiente quello economico politico noi se le amministrazioni si mettono come dire fanno muro contro la nostra iniziativa quello sono uno stakeholder infatti in genere le amministrazioni sono sempre uno stakeholder allora detta questa cosa qui veniamo al fundraising quindi usiamo questo concetto siccome l'ambiente è fatto di una complessità di tanti individui noi abbiamo mi spiace che gli amici non ci sono perché questa qui non c'è proprio una slide è una cosa che va detta a voce allora noi abbiamo due metodi per fare l'analisi dei pubblici per spiegarli uno è sistemico e l'altro è strumentale per spiegarli semplicemente faccio l'esempio della spesa al supermercato che è un'esperienza che credo tutti quanti abbiano fatto almeno una volta nella vita ecco noi possiamo fare la spesa al supermercato in due modi il modo infrasettimanale che parte da una lista della spesa necessariamente uno guarda il frigorifero che cosa mi manca latte, burro, pane eccetera eccetera vado al supermercato latte, burro, pane cassa e vado a casa finito questo diciamo è il metodo strumentale cioè io parto a priori con un bisogno ho bisogno di aziende vado a vedere dove stanno le aziende le prendo dallo scaffale e me ne vado a casa poi c'è il metodo sistemico che è quello che noi adottiamo a volte il sabato e la domenica dove partiamo con una lista della spesa perché questo è quello che dobbiamo portare a casa però al supermercato ci facciamo interrogare e ci chiediamo ma che cosa ci potrebbe servire e ci facciamo stimolare dal supermercato dove vediamo che c'è una cioccolata 70% di cacao molto bella la giriamo 4 euro e mezzo porca miseria quanto costa la riposiamo lì e ce ne andiamo via ora però se il supermercato non fosse organizzato in scaffalature sarebbe impossibile fare tutto ciò quali sono le scaffalature diciamo del supermercato degli stakeholder giocando su questa immagine il marketing suggerisce e quindi è uno spunto sicuramente non l'unico che per un'organizzazione che deve raggiungere un obiettivo ci sono 4 grandi scaffali di pubblici ai quali bisogna guardare il primo sono i portatori di risorse che nel caso nostro sono innanzitutto i donatori che già abbiamo e tutto ciò che è più o meno all'interno dell'organizzazione quindi i fornitori i volontari i dipendenti gli sponsor se già ce li abbiamo quindi tutto ciò che è già in relazione con noi e che porta a noi delle risorse che sono indispensabili qui abbiamo già detto molto sul nostro pubblico interno che pure è uno stakeholder i nostri soci i nostri volontari che ha dato vita all'organizzazione infatti siamo partiti da lì abbiamo detto che anzi il fundraising è quasi sempre parte dall'ambiente interno poi abbiamo i pubblici regolatori che per il fundraising soprattutto in questo momento non è che siano forieri di danaro ma incidono e come e sono tutti gli organi legislativi amministrativi il fisco posso fare il 5 per 1000 non lo posso fare in genere i pubblici regolatori sono destinatari di azioni di lobby o di tutela comunque di interessi oppure meglio in versione positiva soggetti con i quali pattuire una politica quindi fare sensibilizzazione pressione poi abbiamo i pubblici intermediari tutti quelli che di per sé non me ne può fregare di meno la loro importanza che mi portano da qualche ad un altro e qui abbiamo parlato lungamente delle reti quindi sotto questo aspetto se noi abbiamo una rete sociale attiva già di per sé dovrebbe essere un interesse per noi poi si tratta di vedere se gli interessi suoi e gli interessi miei collimano se li possiamo integrare ma di per sé è importante soprattutto nel fundraising perché io con il fundraising devo arrivare quanto più lontano possibile proprio per una questione di allargare le possibilità di raccogliere fondi qui dentro per definizione ci sono i media quelli che possono parlare di noi che sul giornale ci si è stampato Massimo Coincagli veramente è inutile il fatto che lo leggano 500.000 persone questo è utile ci sono tutto ciò che fa rete le reti commerciali le reti professionali le reti sociali che qui non sono menzionate e che invece hanno assunto un'importanza enorme e lo dico subito per esempio visto che il mondo della cultura guarda molto al crowdfunding dico solo state attenti alle mode perché poi le mode passano però c'è un fatto sostanziale il crowdfunding sulla cultura tende a funzionare spesso si pensa che funziona perché ci si è inventati questa piattaforma magica ma se ci ragioniamo bene nessuno la mattina si sveglia e va su internet a vedere che finanziamo oggi voi lo fate? No quindi non arrivano naturalmente sulla nostra piattaforma di crowdfunding non hanno una capacità autonoma di produrre soldi la vera forza del crowdfunding è quando tu hai delle reti sociali che riesci ad attivare e far andare su una piattaforma che facilita e fa al meglio tutto ciò quindi se uno non ha reti sociali se non fa networking se non anima un rapporto con la comunità sopra il vostro conto del crowdfunding è zero date a vedere bene non solo i progetti finanziati tutti i progetti stiamo intorno a un 10% se va bene di progetti finanziati quindi si capisce e alcuni di questi che sono stati proposti sono delle idee geniali ma non li riesci a finanziare se non hai social networking ok? poi abbiamo i pubblici consumatori questo viene dal marketing quindi pensa chi compra i miei prodotti li consuma però accezione generale tutti coloro che consumano le mie attività in un modo o nell'altro forse anche consapevolmente quindi a volte qualcuno consuma le nostre attività consuma in senso lato senza neanche accorgersene e qui dentro ci sono gli utenti i fruitori diretti ma anche tutti quei beneficiari indiretti quelli che beneficiano delle mie attività faccio un esempio per spiegarmi moltissimo tempo fa ho accompagnato insomma ho assistito un'organizzazione che in un quartiere periferico di Bari si occupava di ragazzi diciamo oggi si direbbe di famiglie disagiate va bene e questa era un'attività era una cooperativa non un'associazione una cooperativa un'attività diciamo che chiameremmo brutalmente di dopo scuola di animazione dei ragazzi dopo l'orario scolastico ecco invece di lasciarli allo stato brado nel quartiere fornire loro un'offerta di attività e allora è chiaro che questo era legato a un obiettivo quello di evitare che molti ragazzi molti adolescenti andassero a finire direttamente o indirettamente nell'area della microcriminalità insomma della devianza ok e allora uno si domanda chi sono i beneficiari di questa attività beh innanzitutto i ragazzi poi si è detto le famiglie e si è anche considerato che forse non tutte le famiglie pur essendone beneficiari e lo percepivano e lo percepivano come fatto positivo qualcuno forse avrebbe preferito che il ragazzo si sveltisse e pretesse subito una certa strada vabbè fatto queste cose si è arrivati a dire beh la polizia indirettamente ne ha un beneficio in effetti guarda caso c'era un ottimo rapporto con la polizia perché è un'azione di prevenzione voi dovete essere consapevoli subito che pagherete una mora per questo ritardo sì no vabbè questa poi ve la spicciate voi due voi tre cioè io non entro quello è diritto privato noi stiamo parlando di diritto pubblico qua ok quindi stavamo ragionando prima su che tipo di sanzione però poi è iniziata la lezione lo riprendiamo dopo questo discorso no vabbè ci sono tanti altri modi perché noi siamo persone di buon senso ecco comunque l'avete portato il libretto d'assegni sì no a scanso equivoci dico ok benissimo vorrei però due informazioni sul conto in banca come sta messo ma di che allora facendo questo ragionamento siamo arrivati a dire ma chi altro beneficia magari inconsapevolmente di tutto ciò e si è arrivato a dire i commercianti della zona tant'è che se io potessi fare un ragionamento cosa che assolutamente si può fare valutare nel momento X il tasso di microcriminalità del quartiere valutarlo un anno dopo dopo queste attività se vedo che c'è stato un calo del tasso di microcriminalità addirittura lo posso far valere no questo beneficio vado dai commercianti e lì era nata una prima idea di fundraising vado dai commercianti a far vedere come quest'azione funzionale ha una cosa che apparentemente non c'entra nulla no cioè effettivamente mi hanno spaccato la vetrina tre volte di meno quest'anno no e dice allora questo ha un valore a parte il valore sociale al limite ha anche un valore economico vedi un po' che puoi fare con la cooperativa forse ti conviene stargli vicino l'esempio appunto per spiegare che attenzione questo è oggetto di un'analisi perché se prendo solo i miei beneficiari intorno insomma lo capisco a volte i beneficiari non li conosciamo bene uso sempre come esempio il museo del gusto che invece probabilmente lo farà io diciamo che ho mille visitatori frequentatori in un anno una cosa è dire mille frequentatori è un mio beneficiario una comunità locale una cosa è sapere chi sono e capire quindi che tipo di interesse ha condiviso tale da averne un beneficio ci può essere l'intellettuale del gusto quello che si voleva pigliare un bicchiere di vino con gli amici eccetera 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 e quindi capisco bene il sistema di benefici che io produco nei confronti dei miei interlocutori veniamo alle implicazioni sul fundraising perché è chiaro una cosa noi abbiamo bisogno con questo tipo di analisi di arrivare a un pubblico il più grande possibile individuando chi appunto ha un potenziale interesse nei miei confronti io lo posso fare in due modi è che sono due grandi famiglie due grandi approcci del fundraising innanzitutto vi spiego questo schema questo è lo schema che viene usato in qualunque diciamo costruzione di un piano di fundraising a livello diciamo nel mondo anglosassone è un po' l'ABC va bene? molto semplice molto lineare forse anche troppo ma molto chiaro questa è l'organizzazione è un pallino rosso perché emana energia che la porta facendo beneficiare qualche d'uno nell'ambiente a patto che ci siano due altre frecce che portano risorse qua dentro l'ambiente esterno noi lo possiamo anche rappresentare così c'è una cerchia che è già vicino a noi una cerchia che è un pochino più lontana fino ad arrivare a 55 milioni di italiani l'universo mondo questo già ci fa come appunto il tiro al bersaglio ci aiuta a capire come muoverci il principio è che da un certo punto di vista per arrivare il più lontano possibile forse bisogna arrivarci per gradi però noi abbiamo due modi metto 4 altoparlanti da un milione di watt qua e strillo forte datemi soldi che vuol dire pubblicità immagine marchio va benissimo ottimo soltanto che devi avere risorse per poterlo fare se ce l'hai è un ottimo sistema la lega del filodoro che tutti voi conoscete ribadisco era una piccola piccolissima organizzazione di Osimo provincia del Biancona se io lo mettevo sul tavolo così e dicevo che potenzialità hai sei piccolo sei territoriale ti stai occupando di una causa molto particolare di una categoria di malati voglio dire che è un millesimo rispetto all'area di interesse e di impatto di quello che può essere i tumori il cancro eccetera e quindi che fai beh loro sicuramente sono sicuro avranno iniziato i primi anni invece con un altro approccio allargandosi 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 poi hanno intelligentemente investito fino a fare operazioni 4 milioni di watt avete capito Renzo Arbore e via di seguito hanno affermato una causa hanno affermato un marchio hanno affermato ma no non solo questo uno vede poi solo l'aspetto del fundraising questo gli ha permesso di aprire tre centri di eccellenza in Italia uno a Milano un altro in Sicilia se non mi ricordo male oltre a quello di Osimo assolutamente sì io non ho mai trovato persona che ne parlasse male quindi evidentemente e infatti hanno un fundraising veramente ottimo quindi l'altro metodo che non si contrappone a quell'altro ma sicuramente è il metodo più consono per lo startup attenzione se io sono action aid e action aid mondo ha detto l'Italia è un paese con un forte mercato di fundraising dove le organizzazioni non profit italiane sono ancora piuttosto scarse e allora sai che c'è investiamo in Italia attenzione non è che ha fatto solo un ragionamento economico conquisto sensibilizzazione faccio sensibilizzazione e consenso anche in Italia e questo ha fatto è arrivato con una capacità di investimento comprato le trasmissioni di fazio comprato le trasmissioni di fazio comprato i spazi pubblicitari di fazio pim pum pam quattro anni un business plan molto chiaro in quattro anni mi affermo e sono nella top ten delle organizzazioni si può fare a patto che ho risorse economiche che ho organizzazione che so che cos'è il fundraising se sto in startup non è questo spesso il metodo migliore e allora che cosa dice questo approccio innanzitutto vediamo l'ambiente interno dove c'è la dirigenza lo staff i volontari i soci abbiamo già fatto questo discorso poi accanto a me che cosa c'è gli utenti beneficiari non sempre li posso usare per il fundraising ma possono essere assolutamente un ottimo tramite amici parenti e che li scartiamo gli amici e i parenti ma per l'amor di dio un imprenditore credo che almeno un imprenditore su due ha dato vita alla propria impresa trovando i primi aiuti le prime relazioni tra amici e parenti ma è normale ma anche cose che sono grandi aziende oggi i partner i donatori i fornitori ieri abbiamo fatto il caso della banca che facciamo la facciamo collaborare la banca nel quale noi abbiamo il conto eccetera eccetera allora noi ci aggiungiamo solo un elemento a questa cosa che è molto elementare che appunto questa società è innervata da reti sociali per cui un amico o parente è possibile che attivi una rete sociale che a questo punto è diciamo ha una sua capacità autonoma di portare la causa sociale l'importante mio scusatemi l'importante dal mio punto di vista è quello di individuare queste reti sociali e averci un programma sopra cioè fare in modo tale che si attivi per noi va bene e allora questo è un buon sistema che io consiglio come approccio ultima cosa sulle reti sociali abbiamo facciamo questo ragionamento innanzitutto vediamo chi c'è dentro l'organizzazione Massimo è dentro l'organizzazione Massimo almeno che non sia un monaco anacoreta quando smette di lavorare per l'organizzazione nel mondo esterno è collegato ad altre reti sociali è normale almeno quelle parentali va almeno quelle ma che le so frequenterà la parrocchia starà in un partito politico gli piace giocare a calcetto e quindi avrà sicuramente delle reti sociali quindi attenzione che uno dei primi strumenti per andare nell'ambiente esterno è quello di usare Massimo non l'unico non per forza il più efficace ma è il primo guardate questo ce l'hanno molto chiaro in testa anche le aziende il primo rapporto che l'azienda ha col mondo esterno è legato ai propri dipendenti non c'è dubbio quello timbra il cartellino e va nell'ambiente esterno ed è anche il più importante perché è il tramite naturale con l'ambiente esterno per esempio alcune aziende abbastanza avanzate quando fanno operazioni di raccolta fondi a favore di un'organizzazione la attivano attraverso i propri dipendenti cioè dicono sono i dipendenti che mi devono dire quale causa sociale io devo sostenere perché io ho intenzione di fare un qualche cosa che sia utile per l'ambiente nella comunità dove sto e il primo rappresentante della comunità che ho ho dentro forse più importante del parroco poi il parroco lo ascolto per l'amor di Dio perché questa gente che vive nel quartiere sono loro i portatori di bisogni oltre a essere per me uno stakeholder molto importante perché se col sindacato mi bloccano il lavoro io sto fregato quindi c'è almeno un doppio motivo uno sociale e un altro di gestione delle relazioni interne quindi loro adottano diciamo molto questo principio se Massimo Coincagli non è un anacoreta svilupperà altri interessi che possono essere religiosi professionali di lavoro non sempre lavoro e professione sono uguali famiglia hobby tempo libero politica e quant'altro diciamo che Massimo Coincagli ama molto il golf cosa che non è assolutamente vera una noia mortale e chiaramente partecipa delle attività del circolo del golf sto già facendo una sceneggiatura di un film statunitense e allora la questione è che cosa osta che Massimo Coincagli in occasione del torneo del golf ci metta al centro la nostra causa sociale a priori nulla osta Massimo Coincagli dovrà dare una buona ragione perché Massimo Coincagli condivide la causa sociale e se no e dovrà dire no guarda è un ambiente che diciamo gli immigrati non è che li vedono tanto bene forse non è il caso io potrei insistere presidente dell'organizzazione e dico beh proprio per questo bisogna fargli cambiare mentalità dico sì va bene lo faccio però non è che andiamo a raccogliere soldi là ecco se ci fosse una cosa del genere uno dice vabbè è una rete che non è utilizzabile non utilmente insomma mentre invece Coincagli potrebbe dire perché no girano un sacco dei soldi mettiamo che invece di determinati premi o una parte della quota di iscrizione di questi danarosi viene legata a ed ecco là il film americano è fatto no? in effetti questo nella organizzazione culturale e sociale di paesi appunto come gli Stati Uniti di America di questo tipo di cultura è un fatto naturale io dico sempre che in qualunque film statunitense c'è almeno un fotogramma che riguarda il fundraising perché fa parte dello scenario di fondo non è che faceva parte del copione c'è una carrellata sparatori fra gangster attenzione lì in fondo c'era un banchetto di raccolta fondi con le torte perché la rete sociale delle mamme se una mamma dice c'è il canestro della scuola che fa schifo si attiva eccetera eccetera quella rete sociale una volta almeno fa questo badate bene che la sostenibilità delle scuole pubbliche l'ho studiato perché ho fatto l'altro ieri un corso ai dirigenti scolastici me la sono studiata praticamente la totalità delle scuole pubbliche statunitensi ha un comitato genitori parenti e studenti non solo genitori alcuni sono solo genitori la migliore ipotesi sono associazione dei genitori dei insegnanti e degli studenti che durante l'anno secondo le consuetudini la cultura le attività relazionali normali delle persone che vi fanno fanno attività di raccolta fondi dalla torta e ognuno ci mette i suoi talenti attiva le sue reti ok quindi questa non è non esclude altri approcci al fundraising per l'amor di dio anche perché questo a un certo punto arriva a un limite per quanto prima di arrivarci ce ne vuole ma sicuramente è una delle cose più facilmente attivabili le altre ecco allora che cosa ci serve questo arriviamo al punto diciamo più importante per il fundraising questo ci serve in ultima istanza a individuare il target cioè a dividere in segmenti tutti i possibili pubblici individuare i segmenti che potenzialmente possono dare i soldi a me ieri abbiamo richiamato il metodo LAI ve lo ricordate? o la LAI che vuol dire Linkage Ability Interest quindi noi andiamo a valutare fra tutti i possibili contatti liste o tipologie di pubblici quelli che possono avere un legame con l'organizzazione ma nel senso proprio pratico cioè alzo il telefono ci posso parlare mi metto in contatto con lui quindi è accessibile il grado di interesse che può avere a me alla mia causa e via di seguito e la sua disponibilità finanziaria o in senso diretto ricco non ricco oppure in senso indiretto io potrei dire un forte legame con i professori delle scuole che non hanno un alto interesse perché vorrebbero fare educazione al gusto anche a scuola cioè però i professori non hanno una lira però attenzione i professori mi portano in un ambiente delle scuole che vuol dire tutte le famiglie del comune quanti soldi hanno le famiglie del comune pochi ma sono 3000-4000 soggetti quindi è una grande opportunità economica quindi diciamo o direttamente una abilità una disponibilità finanziaria oppure perché mi generano opportunità importanti di raccolta fondi è chiaro che il mio target principale qual è? è quello che ha un livello massimo queste tre cose quindi diciamo che io prendo tutti quelli che hanno un legame accessibile si può fare ci posso andare domani ci vado ci parlo di tutti questi con questa diciamo matrice vado a vedere quelli che hanno alto interesse alta capacità finanziaria questo è il target di raccolta fondi principale in una logica anche di gestione del tempo degli sforzi degli investimenti qui mi devo concentrare sparare a casaccio per raccogliere fondi non conviene è la strada per spendere più di quanto si ricava invece se io faccio bene questa analisi mi concentro su questi questi sono ottimi target questi non è che li butto a mare per l'amor di dio li coltivo li tengo di riserva questo schema ci fa capire anche che stabilire un contatto un legame è quindi veramente un a priori se a me interessa un pubblico perché sospetto che ho un forte interesse e ho un sacco di soldi ma non ho il contatto non è un'attività direttamente di raccolta fondi ma io devo fare pubbliche relazioni verso quel settore al limite spendendo in termini di energie piuttosto che prendendo in una logica di do to des sto facendo do e poi ci sarà des ok le altre cose veramente dico solamente per nome competizione o concorrenza esistono tre tipi di concorrenza la concorrenza specifica è che è quella più fetente rispetto ai beni e ai servizi c'è un altro museo del gusto qua questo sarebbe proprio il caso scolastico no? oppure potrei scoprire che per alcune cose sono in concorrenza con i ristoranti lo dico sempre per amore di esempio questa è quella che in qualche modo ci deve preoccupare di più perché dobbiamo avere una strategia per controllare questa concorrenza una strategia che può essere di tanto tipo alleanza differenziazione che in genere è la migliore far capire in cosa siamo differenti lotta si va lì con una bomba gli si brucia il locale insomma queste cose qua scherzo annaggia io mi scordo sempre che è tutto registrato penso che mi arriveranno tre quattro denunce alla fine di questo corso concorrenza rispetto al fundraising e ai mercati facciamo due cose diverse però andiamo tutti e due dalla fondazione dalla banca da caffè quarta questo è un altro caso tipico c'è una grande azienda sul territorio stanno tutti in fila là e io non posso pensare che non sono in concorrenza anche con uno che non si occupa di cultura e poi abbiamo la concorrenza geografica che è quella meno preoccupante cioè tu fai cultura e vai da quarta io faccio assistenza sociale vado dal comune però attenzione noi siamo in un territorio che è quello di Lecce del Salento dell'Italia che ha un mercato che per definizione ha un limite poi questo limite può allargarsi la crisi economica si stringe e quindi in questo contesto siamo tutti in concorrenza quest'ultima devo dire che che se ne dica in Italia non è un grande problema in Italia si dice sempre siamo troppe c'è troppa competizione in verità io sono assolutamente convinto che la capacità donativa degli italiani è molto maggiore della nostra capacità di raccogliere ci sono ampi margini anche perché poi arrivano nuove cause sociali che vi devo dire libera io dieci anni fa se mi avessero detto un'organizzazione che si occupa della legalità c'è una roba che se ne deve occupare la magistratura e la polizia fa la raccolta fondi e c'ha i donatori ma sembra strano avrà sicuramente fondi pubblici ma donatori non ne avrà più di tanto zacchete c'è uno scatafascio anzi loro hanno aspettato fin troppo per fare fundraising devo dire la verità e quindi voglio dire c'è margine hanno conquistato nuovi donatori non è questo il problema italiano può essere dell'Inghilterra degli Stati Uniti d'America dove il fundraising ha un livello talmente tanto avanzato che tutti sparano le cartucce pesanti allora quella sì effettivamente è una concorrenza generale a parte il discorso di regolare i nostri rapporti con i competitor questo tipo di approccio è molto utile questo è un consiglio veramente pratico per fare nell'ambito delle attività di analisi due operazioni uno quello di capire bene quale deve essere il mio posizionamento strategico non so se vi ricordate ieri quando vi ho fatto vedere come esempio di Statement di Mission Statement UTIS quella organizzazione milanese che fa drammaturgia sotto c'era un quadretto che diceva il nostro posizionamento perché? perché è chiaro che se io ho un concorrente diretto nel teatro che fa teatro d'avanguardia eccetera eccetera io ho tutto l'interesse che il mio interlocutore capisca ed è magari un nome famoso diciamo per dire ho tutto l'interesse che il mio interlocutore capisca che io sto in un'altra posizione che sono differente più faccio capire che sono differente più mi difendo dalla competizione perché se io faccio teatro teatrino eccetera e c'è un mega teatro sopra è chiaro che ha una posizione di vantaggio questa è la prima implicazione di un'analisi della competizione capire qual è il proprio migliore posizionamento strategico l'altra implicazione invece è metodologica allora se noi abbiamo dei competitor soprattutto quelli specifici andiamo a vedere che fanno se hanno avuto successo come hanno avuto successo questo si chiama benchmarking 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 il paletto se prende un paradigma che è un'altra organizzazione si dice questo ha avuto successo cerchiamo di capire perché ha avuto successo il suo marchio è famoso ci metto un paletto guarda c'è un grande programma con una newsletter comunica ci metto un paletto poi mi metto nella mia organizzazione e mi misuro rispetto a questi standard che loro hanno e cerco di capire come adeguare la mia performance tenendo conto di un esempio paradigmatico cioè di una cosa che sarebbe in ipotesi applicabile a me questo è molto utile proprio praticamente il consiglio è copiare con il rispetto ma copiare chi ha già fatto il bello di questo mondo con internet con la condivisione che non dobbiamo essere tutti geni il 99% deve copiare degnamente intelligentemente applicando nel proprio contesto io credo che il fundraising debba essere un ottimo copiatore poi uno su cento è un genio ma non è che possiamo essere tutti Einstein io se ho un'organizzazione la prima cosa che vedo chiaramente vado a vedere a livello mondiale quale altre organizzazioni fanno la stessa cosa e come hanno fatto poi devo sapere che farlo negli Stati Uniti d'America è diverso che all'Italia e però vedo che magari la modalità migliore di raccolta fondi che quell'organizzazione ha è quella e mi domando ci posso fare qualche cosa a quali condizioni lo posso fare e quindi cerco di adeguare la mia organizzazione questa è diciamo la volgata del benchmarking che è molto molto utile mercati e abbiamo finito dopodiché siamo arrivati tutti possiamo lavorare sui nostri casi ripeto mercati aziende individui fondazioni che cosa devo studiare di un mercato innanzitutto la dinamica tra domanda e offerta quali contenuti ci sono in questo mercato il gusto la cultura del gusto dell'alimentazione è un contenuto di questo mercato mercato cultura diciamo in senso lato e che cosa si tende a sostenere di più chiaramente andrebbe fatta anche un'analisi economica ma questa a casa si può fare fino a un certo punto qui veramente servirebbe ricerca sul fundraising ma già vi ho detto che in Italia se ne fa poca sporadica e non sempre valida dovrei sapere qual è l'entità totale del mercato e qual è l'entità delle singole transazioni che pezzi si comprano finanziano la cultura con 10.000 o con 100.000 perché questi sono due importanti cose anche sapere in Italia abbiamo più o meno un milione di euro dato in cultura dico per dire questo è molto importante saperlo perché mi faccio due soldi di conti e vedo quanto spazio ho in quel mercato le regole dei mercati formali e informali abbiamo già detto ieri e poi devo arrivare a un livello molto specifico i soggetti che stanno in questi mercati nel caso delle aziende la singola azienda al massimo il comparto l'agroalimentare il metalmeccanico ma a un certo punto dirò vado a chiedere i soldi a Vodafone e devo studiare Vodafone nel caso dei soggetti collettivi quindi aziende e fondazioni le cose principali da studiare e che sono fuoriere come vedremo nella nostra esemplificazione di idee spunti per fare la migliore proposta sono la struttura e l'organico come è organizzata c'è un ufficio sponsorizzazioni non ce l'ha chi se ne occupa e quali sono le persone con internet guardate oggi è abbastanza facile dire se Mario Rossi ha detto sì sì mi vengo a trovare fammi vedere chi è sto Mario Rossi a parte già so che è il direttore marketing dell'azienda che interessi ha ha partecipato a dei convegni che ha detto guarda è proprio deficiente Mario Rossi sarà difficile fare questo incontro oppure invece scopri che è intelligente magari ha una laurea è una filosofia e quindi tu sai che puoi parlare anche di determinati contenuti economia e budget economia nel senso come sta sta azienda ce l'ha i soldi sta mettendo tutto in cassa integrazione e beh attenzione non basta questo perché puoi avere un'azienda ricca che però non ha lo strumento per dare soldi quindi bisogna andare a vedere il budget io posso avere un'azienda ricca che però ha un capitolo di budget sponsorizzazioni piccolo io mi devo regolare su quello perché non è che l'azienda certo l'amministratore delegato può fare quello il consiglio d'amministrazione manco l'amministratore delegato può fare più o meno quello che vuole ma poi un operatore un direttore marketing opera nell'ambito del budget non è che lo può cambiare programmi politiche quali sono i suoi programmi di sviluppo a noi interessano alcuni aspetti soprattutto il marketing la pubblicità la sua immagine ma non solo quello vuole aprire nuovi mercati no invece vuole consolidare vuole stare nel Salento queste sono tutte informazioni importanti ieri vi ho fatto un passant l'esempio che fate voi anche un po' di cooperazione con altri paesi eccetera dove andate? ah in Cecchia perfetto noi abbiamo le banche in Cecchia se io lo so prima che la sua area di espansione di unicredit espansione ormai consolidata è nell'est europeo nei paesi all'allargamento dell'unione europea est e io ho qualche cosa che può creare un link un legame con questo suo impegno è chiaro che lo metto in rilievo no? bisogni in termini di marketing che cerca? questo non è proprio facilissimo saperlo bisogna chiederlo ma voi nei prossimi tre anni quali sono i vostri obiettivi di marketing? oh scusate tra parentesi noi quando andiamo da un'azienda siamo colleghi spesso non ci andiamo pensando che siamo colleghi siamo colleghi lui ha le sue rogne io ho le mie e le rogne di un uomo di marketing dell'azienda non sono molto diverse dalle rogne del fundraiser detto questo i colleghi si parlano se l'azienda ha delle strategie di marketing che le deve perseguire alcune cose di queste strategie le deve dire all'interlocutore bisogna un po' capire se quell'interlocutore è utile funzionale a raggiungere i suoi obiettivi in linea di massima su queste cose l'azienda non ha problemi a parlare anzi esiste una certa stampa specialistica che addirittura informa sulle strategie di marketing in cui le aziende pagano per avere uno spazio e dire nei prossimi anni vogliamo andare in Russia quindi sono obiettivi che in qualche modo devono dichiarare non è che sono segreti noi spesso abbiamo una visione delle aziende magari sulle fatture false no? non lo pubblicizzano ma quello è un altro discorso ecco l'agenda se ha delle urgenze qual è l'agenda dell'azienda? qual è il problema principale che deve affrontare? Sony ha fatto una cappellata tremenda ha prodotto un gioco da console per ragazzi che inneggia la violenza lo beccano tutti in una settimana la rete si scatena non comprate boycott Sony una tragedia se io ho un programma che riguarda la cura l'assistenza di bambini la microcriminalità e altro io vado da Sony e quello gli devo dire ho visto che c'è qualche problemino è una pietra di inciampo tutti fanno i loro errori e certo noi adesso abbiamo questo problema di combattere la cultura di violenza nei ragazzi questo dovrei andare a dire a Sony i legami questa azienda gli uomini di questa azienda che legami a network hanno e questo non sempre è facile saperlo ma con internet io una volta ho beccato il cioè ho beccato ho aiutato un'organizzazione a beccare come si dice a Roma una persona diciamo che aveva potere decisionale in una banca perché avevamo capito che lui frequentava corsi di inglese di alto livello nello stesso posto in cui ci andava il presidente di questa organizzazione e non lo sapeva perché sono tante classi tante cose eccetera eccetera siccome su internet ogni tanto scappano queste cose dico guarda tu devi fare la posta alla scala perché se noi chiediamo l'incontro eccetera eccetera forse fra un anno stiamo ancora così lì invece è stato in un clima più informale siamo siete tutti e due dalla stessa parte siete tutti e due che dovete imparare inglese no? e siete colleghi quindi beccalo per strada e dice ah ma lei è il presidente ma io sono il presidente poi se ti mando a cagare ok però almeno ci hai provato più facile beccarlo da qui che da là qualche mio collega quando ho fatto quella diciamo indagine che ha portato al libretto che vi ho consigliato di scaricare mi fece notare che per esempio è ottimo stare su LinkedIn non perché produca direttamente ma perché è una rete parallela in cui è molto più facile creare relazioni con allora tu scambi interessi perché non chiedi soldi su LinkedIn se chiedi soldi su LinkedIn sei un cretino però scambi interessi relazioni magari stai in una rete di marketing della cultura una palla incredibile in cui le aziende dicono le loro ma tu ci metti la tua magari qualcuno dice che cosa intelligente e sei in contatto è già un buon motivo creare relazioni è già un buon motivo per poi passare offline e incontrarsi di persona e anche capire lui con chi si relaziona le consuetudini sul mercato ma st'azienda che cosa ha fatto fino ad oggi nel campo della cultura delle sponsorizzazioni della beneficenza perché le aziende hanno delle consuetudini quindi andare a vedere il pregresso quello che hanno fatto è veramente molto molto utile anche per capire il taglio di cose uno magari dice ma andiamo a proporre una cosa da 100.000 e capisci dal suo pregresso che lui fa cose molto più piccole allora è inutile andarsi a spaccare la testa no meglio individuare una cosa di un certo livello piccolino oppure dice si si è impegnato in cultura ma vedi fa solo teatro dell'opera poi scava scava scopri che che ne so l'amministratore delegato ama l'opera o la moglie è cantante vabbè qualunque motivo sia capisci che lui la cultura se l'esaurisce così attenzione non è che io devo portare a un'azienda sempre la fotocopia di quello che ha già fatto l'azienda bisogna innovarsi però comunque è un buon metro di paragoni io potrei anche capire che ha fatto solo quello opera se gli voglio andare a proporre un altro tipo di cultura devo andare lì e forse lo devo esplicitare noi vi veniamo a proporre una cosa che vi aiuta a riposizionarvi nel campo della cultura vi può andar male vi può andar bene però la strategia è buona perché è inutile tenerlo sotto e cercare di fargli capire quello che fai te come l'opera mi vado a mettere in un vicolo cieco e mi copre di mazzate e invece a questo punto devo spiazzarlo con una proposta che se vogliamo è ardita ma ha senso se ha regolamenti interni questi li devo conoscere le sponsorizzazioni vanno solo mandate all'ufficio X e Y non potete mandare la lettera all'amministratore delegato no? oppure Vodafone per quanto riguarda i progetti sociali Vodafone si è dotata di una fondazione non dovete rompere le scatole a Vodafone in quanto tale o meglio lo potete fare ma il luogo che lui ha deputato è la fondazione che poi a sua volta ha le sue regole andiamo a bando dovete presentare un progetto eccetera eccetera il potere interno questa forse è la cosa più difficile ma chi decide veramente là dentro questo è importante perché se andiamo a aziende più o meno strutturate magari tu infili la porta del marketing e ti mettono uno junior che hanno appena assunto che ti dice ma che bella idea sì facciamo eccetera eccetera dopodiché lui da un punto di vista del potere interno conta quanto il due brisco anzi ha solo paura perché non è un intraprendente anche a proporlo al suo capo a voi vi dirà sì sì sto seguendo la pratica e voi per un anno e mezzo non combinerete assolutamente nulla quindi in questo caso se voi sapete che quello che decide è Mario Rossi a questo interruttore dovete dire ma tu ci hai parlato con Mario Rossi oppure no e allora lì la cosa si fa un pochino più seria ma anche capire chi decide io vi ho fatto l'esempio in Italia spesso la cultura finanziamento alla cultura è stato deciso dagli amministratori dai consigli di amministrazione non dagli uffici marketing e quindi oltre un certo limite se nel potere interno queste cose le decide il consiglio di amministrazione è inutile perdere tempo col marketing devi andare alla linea più politica bene sui soggetti individuali basta non faccio una cosa pedisse qua perché ripeto tra ieri e oggi non ci siamo posti l'obiettivo di approfondire in particolare questo aspetto però è chiaro che dei soggetti individuali dobbiamo studiare altri tipi di cose anche qui ci metto i legami il network che fa parte di reti sta nel gruppo parrocchiale io ho tanti modi per raggiungere le persone gli aspetti anagrafici e geografici dove abita chi è socio anagrafici diciamo professione età eccetera gli aspetti motivazionali soggettivi perché dovrebbe dare i soldi a me perché dai soldi questi sono molto importanti sono più difficili quelli relazionali bisogni la disponibilità economica molto utile segmentare una base di potenziali donatori individuali per fasce di donazione perché su quello faccio i conti economici questi sono donatori da 150 euro se ne faccio 10 sono 1500 euro questi sono donatori da 20 euro per far 1500 euro ne devo fare di più no? vabbè aggiungiamoci questo come titolo la willingness to pay cioè l'orientamento to donate anzi to pay ad acquistare a spendere l'orientamento a donare ci sono persone molto sensibili che però non hanno la cultura della donazione io non sono fortissimo le faccio le donazioni però da questo punto di vista se proprio voglio essere diciamo in pace con me stessa io non ho una forte cultura della donazione intendo parlare proprio dell'atto di cacciare fuori i soldi eh? e no ma io perché vi devo raccontare le bugie poi le faccio le donazioni però ci sono persone che invece nascono per cultura per abitudine per psicologia che sono assolutamente orientate a donare cioè è un fatto che è prescindere dalla buona o cattiva volontà forse dalla cultura forse dalla psicologia forse come si stanno sviluppando degli studi da aspetti neurali neuronali eh? non lo sappiamo ancora se si conoscessimo tutto del comportamento umano e delle sue regioni staremmo a capo non sappiamo quasi nulla men che meno nelle donazioni quindi sai ci sono delle persone che magari ti danno volontariato se appassionano vengono ma non hanno la cultura della donazione quando io faccio questo esempio qualcuno dice infatti ti chiami coincagli sei ebreo eh? no vedi tutto torna oppure vedi sei genovese bello per forza questi sono luoghi comuni assolutamente bene signori allora stop riprendete il vostro booklet che adesso siccome Andrea è gentile me lo fa un attimo perché non mi ricordo ecco vi voglio dare delle indicazioni più specifiche allora voi avete all'inizio prego prego eccoci allora voi avete da pagina 2 a pagina 7 da pagina 2 a pagina 7 allora da pagina 2 a pagina 7 voi avete una serie di domande spunti stimoli che vi devono aiutare a tirare fuori punti di forza o di debolezza la regola obbligatoria è che voi non lo usate come un questionario se no io me ne posso andare e tornare domani mattina e state ancora a farlo perché voglio dire questo è un lavoro che non è che si può fare in 5 minuti quindi voi lo dovete passare in rassegna e in maniera assolutamente sintetica e intuitiva arrivare arrivare a pagina 8 quindi il mio consiglio come lavoro di gruppo è che tutti quanti ci hanno sotto gli occhi da pagina 2 a pagina 7 e uno ha pagina 8 sotto gli occhi e scorrendo quelle domande quegli spunti vi dovrebbe venire in mente non vedevi venire in mente su ogni domanda per forza un punto di forza capace che alcune domande vi producono un cefalogramma piatto e passate avanti ma se emerge e dice beh sì questo è il nostro punto di forza ce lo segniamo qua in questa griglia finale pagina 9 privilegiate i punti di forza ma se appare un evidente punto di debolezza segnatevi pure un punto di debolezza allora riferito giustissima domanda riferito sia al progetto perché è chiaro che noi andiamo a vendere tra virgolette quel progetto ma tenendo conto anche di quei valori di quegli aspetti caratteristici dell'organizzazione quindi la missione generale che possano rappresentare un punto di forza ok quindi non scartiamo perché noi portiamo un progetto che è di un'organizzazione io spesso ho un'azienda che è meno interessato al progetto e più all'organizzazione poi il progetto diventa il modo per legarmi a te ma magari ho colto una cosa che mi interessa di più nella tua causa sociale generale io non lo posso escludere quindi portare solo il progetto e non portare mai l'organizzazione è un errore sempre comunque un errore capito quindi il procedimento molto sintetico molto alla sanfasona noi ci serve didatticamente poi per vedere che ci facciamo con i punti di forza quando ne sono emersi due tre va bene ok e chiaramente a chiamata sono ad assistervi perché non vorrei che vi bloccaste in elugubrazioni mentali in quel caso mi chiamate perché cerchiamo di sbloccare la macchina ci diamo un tre quarti d'ora di tempo ok ok grazie allora come vi avevo promesso ieri intanto che vi risedete vi avevo detto di farvi vi avevo promesso di farvi vedere questa splendida campagna home made fatta a casa che ha un grande valore soprattutto se uno è dei castelli romani perché la metà della popolazione sa che questa è una bibliotecaria la metà della popolazione sa che questo è il figlio della fundraiser perché è bella perché è smart perché è tutto quindi ecco a volte adesso non è che capita sempre di avere le competenze l'idea ma sicuramente traspare una passione enorme io penso che questa fotografia valga oro ma proprio veramente oro questa è una bibliotecaria cioè la gente del suo paese l'ha vista in biblioteca l'ha vista al mercato questa è passione per le biblioteche poi sono carini anche gli slogan saziati di cultura mettiti in testa la cultura c'è un altro fichissimo perché si vede che volto a colpire un determinato target c'è un bibliotecario che ha un tatuaggio da paura qua peraltro c'è un bicipite credo che sia culturista qualcosa del genere e mi sembra che la cultura dà forza e c'è questa immagine che è un po' stridente con i libri che però può diciamo essere accattivante perché è più distante diciamo dalla biblioteca queste sono solo due ne hanno fatto una serie di una decina sotto il profilo del fundraising si sarebbe dovuto fare qualche cos'altro c'è un messaggio troppo subliminale per sostieni le biblioteche è un po' poco però sicuramente è un viatico per far capire che la biblioteca è aperta comunica questa è comunicazione sociale fatta anche molto molto bene e va bene questo perché ve l'avevo promesso allora adesso non ci come dire distraiamo con questo e invece vediamo un po' alla grossa gruppo per gruppo che cosa è emerso in questo lavoro di forze e debolezze e insieme usando il cervello cerchiamo di capire che cosa ci possiamo fare in termini di fundraising allora chi è che vuole iniziare tre punti di forza perché se no non ce la facciamo oggi pomeriggio e poi dopo staremo ancora a fare questo allora chi vuole iniziare mi dice i tre maggiori evidenti punti di forza coraggio forza ottimo museo del gusto sentiamo non fate i compiti a casa come si fa a scuola mentre interrogano l'amico finisco di state a sentire un attimo un attimo perché ti devono dare il microfono che se no non vai in streaming forza forza invece in questo caso non è così quindi in sintesi la diversificazione degli eventi c'è i menu sempre nuovi l'offerta insomma appunto degli eventi c'è sempre novità ci posso passare venti volte l'anno qua e poi sicuramente il legame fra il prodotto e il territorio presentato però in maniera eccellente diciamo allora ce ne aggiungo uno io che secondo me è sopra in una logica di fundraising il cibo ha un mercato enorme cibo è tutto quello che comporta una cosa è parlare di integrazione sociale degli immigrati una cosa è parlare di cibo in Italia e nel mondo soprattutto se parliamo di cibo italiano noi già siamo proiettati nel mondo su una cosa del genere per farvi capire le conseguenze da un punto di vista di fundraising se io ho questo tipo di punto di forza e infatti c'è un sacco di concorrenza perché c'è un grande mercato su questo ricordatevi come stessi voi avete detto in questo mercato sono nati dei colossi che hanno avuto una crescita enorme in due o tre anni anche perché dietro c'è un genio quello di Italy ma perché c'è un mercato da paura lui ha inventato una formula per raccogliere il massimo da questo mercato quindi questo è il segnale voi state in un mercato forte con molta competitività ma c'è spazio per tutti basta vedere quanti ristoranti avete a Lecce se no ne avreste quattro credo che ci sia un rapporto abitanti-ristoranti da uno a due a Lecce e male che te va non te va malissimo perché c'è domanda se no sarebbe una cosa folla non si potrebbe mai vedere una cosa genere in tutta Italia è così quattro ristoranti uno appresso all'altro perché? perché c'è mercato allora in una logica di Fandresi questo mi fa pensare che addirittura io a differenza degli altri no forse loro sì ho un mercato internazionale poi devo andare a vedere se e come lo posso conquistare però il punto di forza per conquistarlo ce l'ho cibo Italia Salento esperienza accanto al cibo questa la vendi dove te pare in Australia in Canada non c'è problema ok? molta gente che viene in vacanza in Italia ormai sa che c'è Italy e un passaggetto ce lo fa quelli interessati al gusto al cibo e via di seguito se non altro per portare un souvenir un pochino più utile della neve sul Colosseo insomma ecco ok? questo ecco teniamo conto dei grandi punti di forza poi è chiaro che voi siete andati come dire a cercare il pelo nell'uovo giustamente cioè nelle tipicità però voi state in un mercato grande loro stanno in un mercato più piccolo c'è poco da fare no? ok allora uno qual era il primo? lasciamo perdere questo che ho detto io il fatto di essere un museo vivente è un museo vivente qui c'è un'esperienza l'abbiamo visto e non c'è solamente la visita di cose neanche solo l'assaggio come faccio valere per il fundraising questo punto di forza? questa è la domanda che lo staff di fundraising si deve fare dopo l'analisi perché è capace che con un punto di forza non ci faccio niente per il fundraising siccome io poi devo andare a raccogliere soldi questi punti di forza li devo operativizzare cioè devo sapere che ce faccio a volte abbiamo degli enormi punti di forza che poco ci possiamo fare per il fundraising almeno allo stato attuale delle nostre conoscenze che ci faccio col primo punto di forza? ad esempio se volessi richiamare delle aziende lo farei per differenza per differenziazione rispetto agli altri è certo pubblicità comparativa ma sto guardando al mondo delle aziende degli individui e delle fondazioni cominciamo alla grossa ad esempio delle aziende perché è un punto di forza per le aziende? perché nel ristorante nel momento in cui consumi la pasta non sai che pasta è sai che sei in Italia che è pasta italiana scusca 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 a me azienda ma che me ne frega se quello va al ristorante o va da te a me azienda beh pubblicità mi chiedi uno sponsor eh sì esattamente però la pubblicità è collegare per chi viene qui il marchio della pasta X che io sto vedendo sto facendo il cattivo e che io sto scendendo con l'esperienza di consumazione attento sto facendo il cattivo l'uomo d'azienda proprio brutale rozzo scusami il ristorante quanti clienti in un anno tira e quanti ne tiri te? beh è ovvio che dovrei offrire all'azienda già un pool diciamo di visitatori tipo io ho 3.000 visitatori l'anno tu sai il ristorante migliore di San Cesario quanti clienti ha nell'arco di un anno? no non sono ristoranti allora dalla regia dicono ok ottimo questa è una buona cosa perché potrei sto andando per ipotesi chiaramente stiamo giocando qua quindi qui lo dico e qui lo nego parlo solo in presenza del mio avvocato cioè però questo potrebbe essere uno spunto per determinate aziende del territorio cioè che hanno interesse a parlare qui perché la naturale esposizione che potrebbero avere i ristoranti a parte che i ristoranti sponsorizzati sono pochi giusto devono essere dei grandi marchi in cui Barilla hai capito lì c'è il grande cuoco ci voglio stare pure io eh ok quindi non è che sia proprio sta grande pratica e se però non ci sono questo canale di pubblicità per determinate aziende voi lo potete essere siete diciamo in un clima di esclusiva monopolio devono venire da me posto che analisi dell'ambiente esterno vado a vedere ma i piccoli produttori locali che peraltro qui troverebbero la casa più adeguata perché è chiaro che un ristorante compra una tonnellata di pasta almeno che non sia un top se la fa in casa questa la fa la sora Maria eccetera eccetera e quindi posto che ci sia quel tipo di interlocutore andare a vedere se cercano quel tipo di pubblicità analisi dell'ambiente esterno se fosse così il link c'è ok questo è per dire il ragionamento che ci si fa secondo prego scusami Andrea sì 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 è certo è perché Barilla parla a tutto il popolo italiano McDonald parla a tutto il popolo italiano il canale è lo stesso e per McDonald affiancarsi alla pasta Barilla vuol dire noi non siamo solo cibo americano perché gli italiani hanno un forte limite su questo cioè noi generalmente diciamo l'hamburger è uno schifo io vado da McDonald solo perché i miei figli mi ci hanno portato di forza appena hanno acquistato l'età della ragione via quindi McDonald sa infatti lo fa in tantissime cose solo carne italiana e cerca di inserire pezzi di italianità perché si deve rendere compatibile Barilla da un certo da un altro punto di vista facendo un favore a McDonald che non contrasta con Barilla eh non contrasta con Barilla perché Barilla la mangia a casa non è che vai da McDonald quindi non è che si fanno concorrenza tra di loro stanno su due piani diversi usa il canale di McDonald per arrivare per essere presente in tutte le famiglie qual è il valore che si porta a casa in più Barilla che ricorda anche quando si mangia americano che c'è il cibo italiano e che il cibo italiano in Italia è Barilla dove c'è Barilla c'è casa questo è lo schema poi magari avviene qui il direttore marketing Barilla e dice qua in Cagli non c'hai capito proprio niente eh ok ma occhi e croce sarebbe questo va bene quindi questo è il primo punto di forza il secondo il secondo era la diversificazione degli eventi il fatto che la perdona sono un po' surdo cioè il fatto che vengano presentati gli eventi diversi ah perfetto ogni volta che vengo qui è una cosa diversa come lo facciamo a chi lo facciamo valere questo punto di forza individui guarda anche il primo sugli individui eh a me mi è venuto in mente gli individui nel primo assolutamente è la cosa che abbiamo detto ieri quando abbiamo parlato della nostra mission noi non siamo cibo siamo un'esperienza sul cibo questo è quello che offro agli individui a coincagli questo è quello che gli interessa eh perché se è solo il cibo veramente va al ristorante è meno impegnativo è più smart vedo il menu no? se vengo qua è per vivere un'esperienza che è culturale di conoscenza di gusto di socialità e via di seguito quindi questo è un punto di forza sugli individui potrei dire che a rigaduta è anche per le aziende perché? perché se l'azienda parla in questo posto parla sicuramente a un target specifico quindi vedete il ragionamento come aiuta è chiaro che io adesso ho un minimo di esperienza ma io sono convinto che se voi dedicate del tempo a questo tipo di ragionamento strategico le cose escono fuori perché se io sono in grado dopo due anni un anno di attività quindi sono in grado anche adesso di disegnare il profilo del mio target perché avrò degli abitué cioè non tutti sono interessati a questa offerta no? è evidente eventualmente per far interessare nuove porzioni di pubblico devo fare promozione devo comunicare loro ma non è che sto vendendo loro ok? invece se io qui ho quel determinato tipo di persona che è uno spender cioè uno che tende a spendere soldi per i viaggi o che altro so io io allora disegno il target di questo e ho quello che offro alle aziende di ricaduta e di ospitare le aziende che vogliono parlare a questo pubblico qual è il mio punto di forza? è che non fa solo la pubblicità io lo posso integrare a patto che sia di qualità come dice giustamente Titino cioè non ospito magari il pastificio che fa la pasta con il grano russo avariato e magari valorizzo delle tipicità locali quindi c'ho dietro anche una mia missione sociale culturale politica se vogliamo e via di seguito però attenzione se un'azienda viene qui fa un'esperienza forte con la sua potenziale clientela non è mica il manifesto per strada non è lo spot per radio vale 8000 volte di più soprattutto se ha l'intelligenza di integrarsi poi qui c'è la sapienza della direzione dell'organizzazione di non fare pataracchi ma io questo lo do anche perché se no mi produrrebbe un punto di debolezza come succede agli altri la svalutazione del marchio si comincia a parlare male invece noi il maggiore punto di forza che abbiamo tra i tanti è questo una forte identità chiara una passione per il cibo un disinteresse e questo crea fiducia quindi non bisognerebbe intaccarlo quello mai però insomma si può ragionare soprattutto con produttori locali a questo punto analisi dell'ambiente esterno mi verrebbe voglia di sapere ma è valutabile il mercato che si crea attraverso diciamo i turisti italiani e esteri nei piccoli produttori cioè io sono in grado di valutare quanto nel bilancio delle entrate di piccoli produttori di qualità nel Salento incide l'acquisto da parte di il sospetto che incida magari non c'è manco questa statistica ok non incide cioè gli acquirenti principali dei prodotti di qualità sono persone del Salento e non di fuori no ma sono canali commerciali organizzati no no ma io dico quelli che vengono qua e se ne vanno con un prodotto tipico secondo me sono uno squinterno ci sono ci sono basta andare a Lecce ci sono negozi che sono fatti solo per i turisti con delle cose anche un po' improbabili che non viva su questo lo spero perché se no finisce il turismo finiscono loro allora per amore di logica sì in questo settore sì non sono disponibili a donazioni o a sponsorizzazioni o a partnership se non come scambio merce ho capito sì ma questo certo non ce l'hanno non ce l'hanno però attenzione non lo fanno perché non vedono le condizioni affinché questo non sia un rischio perché se io invece riesco a far vedere ammesso che sia vero perché non è che la possiamo inventare la realtà no che questo qui diventa un'attrattiva e un canale a un costo bassissimo rispetto ad altri canali di pubblicità e distribuzione per venire a contatto con i produttori su un target che è spender su questo perché se io vengo qua dentro la probabilità che esco fuori con un prodotto è altissima tuoi o eventualmente di altri ma molto alta oppure che dopo essere passato qui aver assaggiato un negramaro di una cantina che non sta molto distante da qua è molto probabile che io ci passo e non credo di essere l'unico di questa categoria meglio ecco allora su questo secondo me questo è un ragionevole punto di forza fatto salvo valutare il valore di questo mercato tu giustamente però mi dici una cosa che nella logica della nostra analisi è una minaccia cioè un comportamento di scarso investimento di poca lungimiranza da parte dei allora io qui dovrei se voglio sfruttare non c'è la mentalità perfetto allora questo frena è un punto di forza che così me lo posso spendere fino a un certo punto sono d'accordo Barilla se lo comprerebbe ma evidentemente non gli interessa solamente l'audience mia e forse a me non mi interessa Barilla mentre invece quello locale in cui il link sarebbe perfetto non funziona allora dovrei fare in qualche modo una politica promozionale con loro mi dovrei mettere lì e dire come posso portarli su questa cosa perché la mia forza è che io ce l'ho l'opportunità per loro ho una reale opportunità ho ostacoli culturali di altro genere adesso il discorso ci porterebbe molto lontano ma dovrei mettermi lì a rispondere alla domanda quale politica migliore posso fare nei confronti dei produttori locali affinché percepiscano e io li possa prendere per mano e accompagnarli lungo questa strada c'è un'altra domanda nel fare questo il gioco vale la candela perché è capace che le risorse il tempo la fatica che io devo spendere non vale il risultato e quindi è chiaro che il ragionamento poi deve tenere conto un po' di tutti gli aspetti perché se io mi devo bloccare un anno a convincere a tenere la manina i produttori locali poi le altre cose più strategiche per me non le faccio ma entriamo giustamente nella pianificazione cioè vediamo quello che effettivamente si può fare ok la mia domanda di controllo è questo meccanismo perché qui stiamo cercando di mettere in modo un meccanismo non di fare un lavoro completo non lo potremmo fare tenete conto che io quando faccio l'analisi di un'organizzazione insomma a minimo una mesata se ne va per farla proprio completa precisa l'importante è che voi siate sinceri nel rispondermi andiate a casa con l'idea che il meccanismo almeno la grossa funziona cioè che mi produce delle informazioni soprattutto delle idee per andare verso il fundraising per quanto ancora a un livello intuitivo è così per adesso sicuro meno male perché io devo torno a casa tranquillo domenica domani voglio stare tranquillo senza sensi di colpa bene carte solo tre tre i principali quelli proprio perché è salentino è made in salento I am salento le carte so salento perché un punto di forza perché rientra nel marketing del territorio tutto l'immaginario del salento è un marchio ma attacco a quel marchio giusto esatto a chi faccio su quale mercato faccio valere questo punto di forza sul mercato locale che comunque sicuramente è legato io sono salentino voglio le carte salentino sì è così e su quello turistico ok nazionale internazionale perché comunque è una storia che piace very good scusate abbiamo anche detto nominiamolo sempre da testare noi avremmo un certo appealing verso i salentini all'estero e questo attenzione avrebbe conseguenze sul fundraising enorme qual è la vera domanda che mi dovrei porre dopo questa affermazione devo avere il database dei salentini nel mondo si può fare sicuro che si può fare sicuro che si può fare sono sicuro che esistono anche agenzie specializzate che sono in grado di tirarti fuori se no posso usare il networking dove sono le associazioni dei salentini nel mondo e questi possono essere dei partner diciamo in un'operazione del genere e poi con internet questo ci semplifica la vita questa sarebbe la conseguenza perché dovrei fare un test di vendita del prodotto nei confronti di questo target sicuramente direi che sarebbe un'operazione comunque utile poi secondo punto di forza poi il network di relazioni che è legato al prodotto che è lo stesso della casa editrice che è già esistente quindi ha già un suo pubblico e quindi è quello legato tra l'altro a tutti gli eventi che sono molto partecipanti sono i fedeli della casa editrice sono i fedeli della casa editrice perché sono un punto di forza? perché è un target sicuro è un target sicuro ebbè non gliel'avete già venduta sì però resta un punto di forza cioè in termini di visibilità di ah ecco aiutarci allora è una cosa diversa che vuol dire aiutarci? possono fare passaparola diciamo eh? va bene datemi datemi un peso quanti sono i fedeli della casa editrice? allora la Culumoni fa un evento sì il primo maggio insomma può tutto con voglia no? in questo evento che è in un paese qui vicino a Martano ne avete parlato ieri circa 3-4 mila persone l'anno che passano da questo e sono tutti fedeli sono tutti registrati sono tutti fedeli cioè sono quelli che vengono periodicamente vanno a vedere la casa editrice no non tutti ovviamente ci sono quelli che vengono e si buttano sul prato e basta vabbè scludiamo qual è la vostra community fedele? anch'io mi butto credo che sia un 10% sì un po' di più del 10% un 20% un 20% 400-500 persone sì potremmo arrivare a un migliaio mica male se parliamo di relazioni questo progetto nello specifico vede la partecipazione anche di B22 no? che è un laboratorio sì allora diciamo che il vostro punto di forza potrebbe essere una rete un network sociale tra virgolette di vendita cioè noi sì possiamo anche stampare manifesti 100% 150% e fare affissione murale con le carte però noi abbiamo un canale promozionale naturale che non sarà infinito ma insomma è consistente perché 400 persone se sono veramente fedeli se sono già possessori più o meno del mazzo di carte insomma potrebbero esserle poi bisogna dire a quali condizioni come come attivarli però la rete c'è non è che me la devo inventare no? gli afficionados ottimo ottimo potreste applicare anche potreste anche applicare uno schema tipico della campagna member get member se sono degli afficionados condividi con qualche di un altro il piacere di giocare alla salentina vabbè poi questa è la creatività lasciamo perdere adesso non apriamo terzo ed ultimo punto di forza sì certo perché è vero ci esistono delle edizioni secondarie di carte eccetera la carta fa schifo dopo un po' la butti se piegano quando le mischi devi buttare il mazzo poi non sono disegnate bene uno giocatore di carte ha bisogno di una carta di qualità quindi è veramente una qualità di prodotto e dice ma me lo dici te la stampa di modiano ci giochi da una vita con le carte di modiano quindi evidentemente no stai tranquillo e infatti d'altra parte poi diventa anche una debolezza perché comunque questo presuppone un alto costo di produzione vabbè ho capito ma la qualità si paga questo per me non è un problema se io devo comprare quattro mazzi di carte che butto dopo una partita mi costa di più che un mazzo di carte modiano e io se vado a comprare le buone vecchie napoletane non mi vado a comprare quello al banchetto dei cinesi ma vado a comprare quelle di modiano che costano di più contento felice e mi durano una vita ok quindi questo non è un problema e certo vabbè vabbè ma questo questo non mi sembra assolutamente un problema allora è evidente però in chiave di fundraising che i punti di forza vostri vi dicono una cosa molto chiara voi col fundraising ce fate quasi niente dovete fare marketing dovete vendere lasciamoci un pezzo del cervello no che è legato ma possiamo fare operazioni nei confronti delle aziende perché per adesso di punti di forza validi per le aziende non ce ne ho d'altro canto sai è difficile un prodotto sponsorizzato è più difficile venderlo cioè lo sponsor non si giustifica su un prodotto che vendi si giustifica meno poco tu hai mai visto hai mai comprato sono rari i casi in genere sono più che sponsorizzazioni sono co-branding no? la macchina con l'allestimento dei Armani ok? ma sono più operazioni di copromozione non è sponsorizzazione perché Armani non è che dà i soldi e neanche cosa dà i soldi ad Armani credo eh se no sarebbe eventualmente l'icensing Citroen compra l'uso in licenza del marchio Armani per valorizzare il suo prodotto tra aziende allora voi ci avreste qualche cosa da vendere alle aziende? tra i vostri punti di forza c'è qualche cosa che fa dire beh sì potrei andare anche a prendere soldi alle aziende perché se no vi rimane solo il libero mercato credo che uno dei punti di forza possa essere l'astuccio che è personalizzabile questo è un punto di forza che posso far valere sulle aziende assolutamente devi dare un sacco di soldi scusami tu per personalizzarla è il numero minimo per essere produttiva la cosa è? no possiamo personalizzare non so 100 50 ci si può lavorare si può arrivare si può arrivare allora una cosa del genere fa pensare che piccoli diciamo piccoli imprenditori potrebbero piccoli imprenditori ma perché no dei bar ovviamente con gusto non certo con gusto perché peraltro siamo una casa editrice c'è dietro un designer c'è dietro una ricerca culturale quindi una cosa di qualità eh? non è che sto parlando una cosa di qualità uno che vuole fare diciamo un regalo a Natale a 50 persone che sono i suoi clienti e vuole fare una cosa le carte esclusive lo sapete questo qui però marchiate le aziende le aziende l'hanno sempre fatte certo a Modiano addirittura con una tiratura più alta si può fare anche il retro ovviamente anche lì con gusto in una certa maniera però si può fare quindi non sarà proprio sponsorizzazione ma è vendita del prodotto è uno scambio al mercato delle aziende no no non è sponsorizzazione nel senso che io non sponsorizzo niente io ti do dei soldi perché mi dai il prodotto perfetto è un scambio commerciale se no l'ultima ipotesi poi passiamo agli altri casi è che si possa fare un'operazione dice ma se noi viaggiamo nel mondo accanto al marchio salento quindi andiamo ai salentini dovessi fare un'operazione salentini nel mondo no? beh allora qualcuno qualche azienda potrebbe dire a me interessa viaggiare con il tuo marchio con il tuo prodotto a questo punto magari non lo metterei sulle carte ma lo metterei nel packaging da qualche parte indubbiamente potrei far veicolare lui no? sì perché no? dicendo anche che queste carte sono fatte anche no? grazie al contributo di questo potrebbe essere lo schema il che potrebbe andare a sottolineare che questo ci permette di tenere un costo basso nonostante sia un prodotto assolutamente di altissima qualità allora viaggia il suo marchio fai conto che esiste un pastificio che vuole sbarcare negli Stati Uniti d'America locale no? magari di qualità è la prima cosa che fa è attaccarsi agli italiani all'estero questo lo so per esperienza con pastifici che vendono all'estero quello è il primo canale no? devi seguire l'italianità che già sta là poi da lì ci sono le reti perché metà degli italiani sono italo-americani sul serio alcuni manco sanno più parlare italiano però se nonno viene dal serio ricordate la pubblicità del Pandoro Bauli no? melegati oh malagati quello è uno specchio veramente di un pezzo di America italo-americana eh? oh malagati quello lì è il nipote di terza generazione non c'è niente di italiano ma attenzione c'è l'identità italiana oh domene come lagati l'Italia eh? quindi dietro ci sono poi anche sti ragionamenti va bene allora qui però è chiaro dovete vendere voi siete business lì c'è un po' di business e social voi siete business business benissimo tutto questo questo lo metti nella storia di queste carte dentro al foglietto perfetto infatti tu hai fatto un Deblian e io così percepisco che c'è un prodotto a valore aggiunto dopodiché quello lo ripiego lo metto là e con le carte ci gioco no? ma assolutamente nobilita il prodotto c'è una storia dietro c'era venuta anche l'altra idea io vendo le carte ma anche un servizio questo è un valore aggiunto un servizio che tendenzialmente mi costa zero chi compra le carte c'era venuta questa idea chi compra le carte ha una chiave per entrare sul sito e andare a vedere le regole dei giochi ormai sconsumili conosciuti e persi quando io ho giocato per sei ore a scopetta mi sono rotto le scatole è capace che mi metto a provare un nuovo gioco figo anche perché entro nel bar no? ieri facciamo la storia entro nel bar e vedo la vecchia tabella dei giochi proibiti che saranno mistero dietro ci sono storie romanzi una cosa affascinantissima ma in che consisteva? perché doveva essere vietato sto gioco? c'è pure un po' di interesse morboso dietro no? chissà che facevano eh? si sgozzavano che ne so eh? con l'immancabile è vietato bestemmiare la madonna che è giusto è sacrosanto eh? e sputare per terra e sputare per terra eh? ok va bene però voi dovete fare business cioè diciamo che se vi alzaste e andaste via al corso di fundraising no la vostra vera sfida è business ok va bene va bene va benissimo così guardate che però il ragionamento il ragionamento strategico è uguale eh? anzi ci aiuta a capire assolutamente a me soprattutto nel campo della cultura questo tipo di ragionamento aiuta a capire per alcune organizzazioni che il vero punto di forza ce l'hanno nel libero mercato e meno nel fundraising invece sono partiti perché magari sono una cooperativa sono un'associazione con l'idea che qualcuno ti deve aiutare per poi scopri che produci un prodotto un servizio che funziona il libero mercato non è vietato non è neanche cattivo l'importante è capire che c'è qualcuno che lo voglia sostenere e rispettare le regole certo quindi a volte questo aiuta a capire che col fundraising come abbiamo detto ieri all'inizio non è che ci puoi fare tutto devi ragionare una logica di funding mix in cui dentro c'è il botteghino c'è la vendita dei prodotti a questo punto tu decidi qual è la forma migliore per farlo perché entro certi limiti ti conviene fare business con una forma non profit invece entro certi altri limiti ti conviene fare business con una forma societaria anche per ragioni fiscali e quant'altro cioè questo ti aiuta a prendere delle decisioni importanti perché a volte non puoi stare su tutti i mercati con una forma non profit metti a fare 80% di vendita di carte arriva la finanza e dice ma scusate ma che state facendo cioè giusto anche sulla gestione contabile un commercialista direbbe ma fai una società a nome collettivo che ne so cioè lascia perdere non profit quella è un'altra cosa ok prego punti di forza ricordate sempre il titolo del progetto perché io sono vecchio c'ho qualche problema acceso sì il progetto è il museo web lab contest all right perfetto inserito all'interno di un progetto più vasto che il museo web lab quindi questa è una delle attività benissimo punti di forza punti di forza il fatto è che il progetto sia già sostenuto con un finanziamento pubblico di per sé quindi cerchiamo dei soldi per questa attività specifica ok questo è un punto di forza che faccio valere su quale mercato soprattutto su quello delle aziende assolutamente delle aziende private direi anche su un altro mercato poi bisognerebbe valutarlo quanto è forte è qui quello delle fondazioni ok proprio tipico la fondazione ci mette il suo marchetto dice sì è un bel progetto d'altro canto le fondazioni sono molto attente alle relazioni istituzionali evidente quindi se la regione ha detto sì non lo deve rivalutare più di tanto si lega comunque a un soggetto istituzionale che lo preferisce rispetto a legarsi a un'azienda la fondazione quindi proprio sta a casa sua e peraltro gli costa solo 5 mila per un progetto che vale 30 40 50 quindi questo è sicuramente un punto di forza gli individui non gli cambia niente anzi se dovessi chiedere soldi agli individui per questo non dovrei proprio mettere in prima linea il fatto che me l'hanno già finanziato con il pubblico perché se no dice ok l'hai finanziato già con i soldi miei ho pagato le tasse infatti per gli individui pensavamo quest'altro ok vediamo l'altro punto di forza la possibilità di concorre a fermare dispersione scolastica perché il contest praticamente mette insieme degli artisti senior dei creativi senior insieme a degli adolescenti che fanno un percorso di residenza di una settimana per creare un nuovo contenuto culturale o creativo ottimo per puntare soprattutto su degli adolescenti che hanno un pericolo di dispersione scolastica ecco questo mi permette di sottolineare un passaggio interessante è chiaro che noi inventiamo un prodotto un progetto culturale e c'è come dire il suo pilastro le sue fondamenta e che sono il contest tra dopodiché intorno ci costruiamo un progetto e lì dentro ci mettiamo altri interessi altre competenze come per esempio questa dell'attenzione a diciamo gli adolescenti o i ragazzi e in particolare su un problema che sospetto molto sentito che è quello della dispersione scolastica allora quando io faccio una anche guardando le aziende rubo un minuto per spiegare questo ragionamento che spesso noi qui usiamo solo il senso comune e prendiamo degli errori allora penso le aziende le aziende sono sponsorizzazioni è chiaro che guardo soprattutto umanamente al valore ai punti di forza dell'aspetto spettacolare di comunicazione eccetera se invece io pedisseguamente mi vado a analizzare ogni aspetto qui scopro ma non ci voleva molto però tu l'hai nominato è giusto scopro un valore sociale questo mi permette di dire ma non ci sono aziende che probabilmente non sono interessate al mio contenuto di comunicazione e pubblicità perché potrebbe essere relativo il signor Di Vella lo fa in un altro modo eccetera e potrebbe essere invece interessato all'aspetto sociale perché invece ha la responsabilità sociale vuole fare beneficenza che caspito so io e allora sai da lui ci vado in un contesto in cui comunque si comunica io ti offro un prodotto sociale quindi questo punto di forza sicuramente può essere fatto valere verso le aziende ma attenzione quelle aziende che tendono a esprimere hanno un programma un orientamento a un impegno sociale quelle che fanno solamente marketing pim pum pam ma forse manco glielo dico sì ce lo metto perché il programma è unico ma non è quella la ragione per la quale vado da loro terzo punto di forza il terzo punto di forza è che il prodotto l'attività si presenta come un'operazione di marketing territoriale perché in realtà sia gli artisti senior che gli adolescenti devono creare il contenuto culturale e creativo ispirandosi al territorio o al museo benissimo quindi il punto di forza è che è uno strumento per promuovere il territorio esatto perché poi produce una mostra c'è una mostra in cui praticamente tutti quanti le esposizioni sono realizzate perfetto ottimo do per buonissimo questo punto di forza ricordate che poi i punti di forza vanno valutati uno dovrebbe dire ma quanto rispetto ad altri competitor noi riusciamo a incidere sul marketing territoriale do per scontato che voi incidete a chi facciamo valere questo punto di forza noi abbiamo pensato a degli enti o a delle associazioni di categorie soprattutto artigianali bravissime è chiaro perché il singolo imprenditore non fa da solo marketing territoriale non esiste almeno che io non sia una grandissima azienda però me lo faccio per me si promuovo il territorio ma solo in maniera che è funzionale a me e quindi è difficile non lo fanno i piccoli ne hanno bisogno ma non lo farebbe mai nessuno per fatti suoi le promozioni di marketing territoriale le fanno o le pubbliche amministrazioni o le associazioni di categorie che non hanno soldi però che potrebbero fare? noi per esempio avevamo pensato nel caso degli enti le agenzie regionali che già fanno promozione Puglia Events Puglia Promozione allora quelli fondi ce l'hanno andiamo nei fondi pubblici possono portarla nelle fiere internazionali nelle esposizioni hanno già un prodotto diciamo finito allora diciamo che sono soldi di derivazione pubblica avete solo un limite che come si dice a Napoli l'acqua è poca e la papera non galleggia l'acqua è poca e la papera non galleggia e prosegue le zoccole vengono alla tavola con le lacrime agli occhi chiedendo un pezzo di pane cioè è proprio la rappresentazione della povertà c'è talmente poca soldi che le papere non galleggiano e addirittura i topi vengono alla tavola piangendo chiedendo un pezzo di pane c'è proprio il disastro cioè il pubblico è chiaro c'ha un limite però il vostro è un prodotto un'attività che evidentemente non può campare senza fondi pubblici allo stato attuale perché il suo contenuto i suoi punti di forza in termini di mercato in termini privato in termini di pubblicità eccetera sono diciamo ancora abbastanza deboli anche perché in Italia siamo abituati a farlo fare alle strutture pubbliche questo sicuramente c'è questo aspetto della responsabilità sociale d'impresa però io non ho mai visto un progetto che al 100% è finanziato con la responsabilità sociale d'impresa quindi c'è un limite di mercato perché quello sarebbe un reale diciamo punto di forza da spendere nel mercato privato però torno un attimo alle associazioni di categoria lasciamo perdere le agenzie regionali diciamo che noi andiamo a confartigianato conf 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 no? ok? queste non hanno soldi anzi hanno problemi pure a ritirare le quote associative dei loro membri in questo momento va bene? quindi che cosa possono fare non potendovi dare soldi che sia funzionale al fundraising? assolutamente sì perché allora quello che uno può avere in testa se mi funziona per il fundraising è un'operazione del tipo sotto legge di confartigianato tutti gli aderenti danno una quota di 100 euro ma magari non so mica pochi eh allora però devo farci una politica e lui me li deve mettere intorno a un tavolo e deve essere uno spalding partner quindi deve essere convinto della mia causa sociale e quindi il primo passaggio proprio domani da fare è riguardare il progetto preparare una proposta e andare dal presidente di confartigianato e parlarne e dire volete essere partner? e quello dirà sì a noi però ci serve che voi contribuite a sostenere l'iniziativa non ci abbiamo soldi no cerchiamo di fare un'operazione proviamoci facciamo un test se tu pensi che questa è una cosa che possa essere utile per tutto il comparto proviamo a metterci intorno al tavolo facciamo una tavola rotonda non è che dobbiamo fare un convegno né niente no? e ragioniamo su questo facciamo un test se quelli lì vanno via vomitando dicendo che è perdita di tempo ok cancellate se invece c'è un interesse allora si può studiare con confartigianato una campagna di adesione troverete il sistema per comunicarlo che non è mettere solamente i loghetti delle aziende dovreste nella manifestazione fare la stanza del marketing territoriale la chiamate in un altro modo in cui questi soggetti possono interagire perché se no non hanno soddisfazione perché se ne hanno 100 sapete i manifesti che producono 100 loghi no? non servono assolutamente a niente già ve l'ho detto quei 100 loghi stanno a testimoniare sì la marchetta l'ho pagata punto ma non è pubblicità sono in concorrenza non si vedono non si leggono dopo il terzo logo uno sviene giustamente quindi non sono operazioni pubblicitarie in quel caso invece tu in questa kermess dell'evento eccetera gli devi dare un ruolo poi se me danno 2000 euro è un ruoletto se me ne danno 10.000 è un ruolo più importante insomma è normale vabbè però insomma ci siamo prego allora il primo punto di forza riguarda le aziende allora il progetto è un festival festival sull'ambiente festival sull'ambiente si fa musica a impatto zero ok quindi il primo punto di forza è rivolto alle aziende noi il progetto è stato già selezionato da Puglia Sound ottimo quindi già finanziato benissimo qualcuno l'ha valutato ed è un progetto fico sto tranquillo le indicazioni di questa selezione sono a livello di promozione perché Puglia Sound sarà diciamo l'intero progetto a Puglia Promozione questo è vero effettivamente ah aspetta aspetta io sto facendo l'azienda ma voi in questa promozione ci potete mettere anche il mio marchio certo bingo ragazzi bingo pubblicità a costo zero a questo punto a me già mi frega di meno della qualità che musica fate sì l'ambiente sì ok meglio meglio l'ambiente tutti vogliono l'ambiente scusami il mio contatore sta dicendo costo contatto e chiaramente la domanda che ti faccio dopo e tu devi essere preparatissima quali sono i canali di promozione di Puglia Promozione allora Puglia Promozione va bene innanzitutto fiere internazionali sul turismo nonché giornali riviste insomma è abbastanza diversificato come il sito quindi carta stampata tv pure? no non credo a questo si aggiunge nel senso che però Puglia Promozione farà anche dei servizi su questi eventi che lui no? gli farà dei servizi andrà in qualche tv locale beh penso un servizio sì no sì ovviamente vengono le cose che io sto già immaginando dove devo piazzare il mio marchio in modo che quando si fa la carrellata compaia la carrellata è stata immaginando 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 la carrellata